Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Tinkau e questa è la Masterclass di Power Pivot. Siamo giunti alla lezione 28 e oggi andremo a vedere una nuova funzione, Date Add. Praticamente ci permette di fare le stesse cose che abbiamo fatto, che abbiamo studiato nella precedente lezione, però ci permette di fare qualcosa in più. Allora, andiamo nel file di esempio che è la stessa dell'altra volta, così io qua sono andato ad aggiungere ulteriori funzioni, così ce le avete tutte insieme. Ovviamente per gli abbonati al canale in descrizione a questo video trovate il link per il download di questo file, così potrete analizzarlo e fare dei test in autonomia, altrimenti se non siete abbonati potete replicarlo da soli. Allora, che cosa ho fatto? Praticamente vedete, qui ho la stessa cosa che vedevamo nella scorsa lezione, quindi ho la base dati con tre anni di venduto e poi abbiamo fatto delle pivot inserendo appunto il dato precedente, e quindi qua il giorno precedente, il venduto del giorno precedente, che appunto vedevamo 5.86 sull'1 e sul 2 vedo appunto il venduto che ho fatto nel giorno precedente, piuttosto che facevamo il previous month, il quarter o l'anno, e piuttosto che fare anche il next quarter, quindi andavamo indietro oppure andavamo avanti del quarter, day, month o year. Date Add, che cosa ci permette di fare? Ci permette di fare la stessa cosa, infatti qua ho aggiunto una misura e vedete che ottengo sempre gli stessi risultati, però ci permette di fare qualcosa in più, possiamo anche andare indietro di più giorni, ad esempio se vado a fare il calcolo del giorno precedente potrei voler andare indietro di 2, 3, 4, 5 giorni, la stessa cosa con i mesi piuttosto che con gli anni, piuttosto che con i quarter, cosa che con le precedenti funzioni non potevamo fare. Quindi andiamo in Power Pivot e vediamo come funziona appunto Date Add. Quindi entriamo qua, come vi dicevo ve le ho inserite tutte qua, quindi se vediamo ad esempio la precedente lezione come funzionava, facciamo un Calculate perché dobbiamo modificare il contesto dei filtri, giusto un ripasso molto veloce che cos'è il contesto dei filtri, che quando io tiro giù una misura dalla mia tabella, ok una quantità dalla mia tabella, la metto sul riquadro dei valori della Pivot, lei che cosa fa? Guarda tutte le dimensioni che contornano appunto la Pivot, quindi guarda come sono filtrate, quindi lui filtra il 2021 e qua tira fuori praticamente il primo gennaio, e è così che qui compare appunto il numeretto 586, perché guarda i filtri che sono applicati nella Pivot. Noi modificando il contesto di filtro del Calculate andiamo a forzare praticamente la gestione di una determinata dimensione, di un determinato filtro, valore, che vogliamo far comparire nella Pivot, quindi ad esempio qua facciamo il Previous, ok, quindi qua stiamo tirando fuori il 586, che in realtà corrisponde al 1.1.2021, che è quello che vediamo su questo campo qua, quindi scardiniamo il funzionamento standard della Pivot. Quindi entriamo di nuovo qui, quindi vediamo appunto che facciamo la somma della quantità del venduto, poi Previous Day e usavamo la tabella del calendario, che è la data che sta sulla tabella del calendario, anche qua molto velocemente per chi non ha seguito la lezione. Qui abbiamo agganciato la colonna Data del venduto con la data del calendario, perché nella tabella del venduto potremmo non avere le date consistenti, quindi popolate per tutto l'anno, e quindi quando facciamo dei Previous potremmo avere delle informazioni risultanti errate, che è quello che avevamo nella scorsa lezione, ok? Vedevamo dei buchi che non ci tornavano. Invece utilizzando la tabella del calendario abbiamo sempre tutto il calendario consistente, e questi tipi di calcolo escono sempre belli, perfetti e giusti. Quindi imparate sempre a utilizzare la tabella del calendario quando lavorate con le date. Tornando a noi, quindi facciamo il filtro su quella data. Il Date Add è praticamente la stessa cosa, ci assomiglia veramente molto, quindi facciamo il Calculate, la somma della nostra quantità, e poi scriviamo come filtro, vedete sul Calculate ci mettiamo il filtro, usiamo la funzione Date Add. Apriamo la nostra tonda e qua diciamo la data di riferimento, che anche in questo caso è la data che deriva dalla tabella del calendario, perché abbiamo bisogno di una tabella consistente, e qua gli mettiamo un numero, e poi un altro valore, punto e virgola ancora, e ci mettiamo Day. Se io qua faccio questa cosa, punto e virgola, che cosa compare qua? Se andiamo in fondo, perché mi fa vedere tutti i campi che trova nel modello, se andiamo in fondo vedete che troviamo Day, Month, Quarter e Year. Io posso scegliere la dimensione con il quale questo numeretto va indietro oppure avanti, quindi se metto Day andrò indietro di un giorno, se qui ci metto il 2 vado indietro di due giorni, se qui ci metto un 3, quindi senza il segno negativo, non serve scrivere più 3, ok? Basta scrivere 3, lui va avanti di 3 giorni. Quindi ecco perché Date Add è un po' più potente delle funzioni che vedevamo in precedenza, a parte che utilizziamo sempre la stessa, e cambiamo praticamente l'intervallo che sta appunto sull'ultimo parametro che è qua. Quindi appunto se mettiamo giorni, questo numeretto ragionerà in giorni, se mettiamo Month ragionerà in mese, quarter in quarter, e Year in anno. Quindi facciamo giusto un esempio, facciamo un meno 2, facciamo Invio. Infatti qua vedete anche le altre, che vedete che appunto ha messo Month, Quarter e Year, ok? Quindi adesso io nel giorno ho detto non andare indietro di un solo giorno, ma vanno indietro di due giorni. Andiamo a vedere che cosa succede, ecco che praticamente lui ha scittato il dato di due giorni. Siamo al 3 di gennaio, e mi sta facendo vedere il venduto 5.86 che in realtà corrispondeva al primo gennaio. Ecco che questa funzione ci torna utile appunto per fare tutte queste cose qua in modo più dinamico, custom, in base all'esigenza che abbiamo. Bene, come sempre se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se non siete abbonati al canale magari pensate a premere il bottoncino che sta qua sotto per usufruire di tutti i vantaggi che sto cercando di portare e associare appunto all'abbonamento, al sostentamento di questo canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!